benvenuti in un nuovo video, da come vi ho fatto vedere nel vlog di on what it may day di sabato ho fatto, mi ho fatto vedere un po' le offerte e giustamente ne ho approfittato anche io infatti è arrivato proprio, di solito arrivava dentro un pacco comunque più così invece stavolta c'è proprio con il logo, adoro troppo quindi apriamo, ho preso un po', infatti vedrete le cose che ho preso una scorta di barrette, perché praticamente vi devo fare un video bomba allora, vabbè, solite cose, il polvo, questo qui, infatti sono appena venuta da scuola ed è arrivato stamattina allora, la prima cosa che vedo sono questi nuovi biscotti, che sono i frollini al lampone madonna, non vedo l'ora di provarli, questi qua sono del marchio Enerzona, sono buonissimi questi qua e sicuramente anche questo lampone io ho provato cacao e ho anche luciola poi ho preso un pancake, oddio morbidissimo eccolo qui, pancake alla vaniglia, questo è il marchio Nano non so che si comincia così, bellino lo proveremo insieme in un video ho preso l'oro, cioè mi spilavano troppo ho detto, no, questi prima che finiscono li devo prendere perché sapete che io amo troppo i fiocchi, questi qua di MG e questi qua una ragazza mi ha mandato proprio il video che ci sono all'interno proprio i pezzi di cioccolato quindi è perfetto anche per fare i miei classici biscotti e adesso i fiocchi d'avena a gusto nutreo eccoli qua non ve lo dora poi voi voi ho preso ok due pacchi di patatine, belli pieni questi qua sono pro biosso sì, biologico, chips di lenticchie e paprika cioè, allora, comunque la protezione è bella piena ed è da 40 grammi scioccata eccolo qui lenticchie e poi questo altro qua non è uguale solo che sono le chips di ceci e pepe nero ma li proverò e vi farò sapere ma sicuramente li proveremo in qualche quattro etnetei ma mi sto dando troppo isponere comunque allora no, guardate quanto mi spiego bene ho preso sapete che io ho adorato questi budini qua no, ma la confezione mi piace un botto ed è questo qui penso che si pronuncia Herman ed è un budino questo qui gusto caffè colombiano mi ispirava troppo quindi ho preso sapete che io ho provato cocco e cioccolato ed è molto molto buono sapete che per gli ordini suol supplement per qualsiasi cosa potete scrivermi su Giulia Mfitto vi rispondo sempre avete il mio coce sconto che è Giulia 010 c'era che una valanga di barrette ho preso il mio famosissimo multivitaminico della Prodys ormai sapete che io lo utilizzo spesso eccolo qui mi ci trovo bene ha portato il supplement anche mente creatore quindi un voto in più ho preso questa schiacciatina fitta che è molto piccola è come le dimensioni del pan focaccia no vabbè l'ho rimasta male me l'aspettavo un po' più grande comunque la proveremo però è super morbida sicuramente sarà un po' simile alla pizza ed è il prodotto sono i prodotti di lima proprio poi ho preso questa novità della Pro Nutrition è una crema proteica zero zuccheri limone zero e cioccolato bianco non so non so com'è ma secondo me spacca ho provato quest'altro e devo dire che è diverso dalla Ciocorelax però è molto buono ho preso un po' di barrettine allora questa qui è un carb crusher che anche se proveremo in qualche what it in a day perché è vegana è una barretta cioccolato e arancia cioccolato e arancia quella qui della My Protein poi quest'altra qui mi ispirava e secondo me è buonissima della Faflil Faflil white chocolates e cookie è bellissima poi finalmente provo questa qui della Carbchilla gusto peanut butter eccola qua poi quest'altra qui salted peanut sempre Carbchilla vado raga e li levo una volta mi ispira un botto poi ho preso i carallini ai ceci fagioli e lenticchie sono buonissimi questi qui altri cereali cioè ragazzi pure sono arrivati tutti e tutti vabbè della Pit Stop Way biscotto proteico al mirtillo ecco di qui infatti si sente tipo che è friabile vabbè non fa niente lo proveremo insieme poi ho voluto prendere anche lo stesso pancake però al cioccolato però sono piccolissimi vabbè proveremo vediamo questo è spezzato no vabbè è troppo curiosa ho voluto prendere questo è un mega cornetone di pieno di cioccolato no vabbè è enorme no non vedo l'ora questa è la nuova linea che trovate su WhatsApp probabilmente è la It's Pro non vedo l'ora ultimi tre prodottini ho preso quest'altro biscotto sempre It's Pro gusto mirtilli e cioccolato bianco eccolo qui questo è un altro marchio cioè lo stesso marchio che è tornato cioè no è tornato rivendono da poco sul supplement poi ho preso tutto cioccolato bianco anche white cioccolato bianco cookies parlo in italiano che è meglio della carb kill è sempre una barretta e poi lei la dovevo troppo provare la famosissima barrettina questa qui è la My Protein Pro e ho preso dark chocolate quindi cioccolato fondente e sale boh che re mi ispirava troppo perché è tipo sale marino questa cosa qua e quindi questo è stato il mio unboxing avete visto un bel po' di barrette ma vabbè le proveremo insieme spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao